Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Era il giorno della Domenica delle Palme lo scorso 10 aprile quando all'ora di pranzo, in pieno centro a Pescara, nel Ristobar Casa Rusti di Piazza Salotto, Federico Pecorale, 29enne, residente a Montesilvano, ripreso dalle telecamere del locale, sparava 5 colpi di pistola al cuoco 23enne e pugile Gelfry Guzman perché gli arrosticini appena serviti non erano ben cotti ed erano poco salati. Un gesto assurdo che solo per un miracolo e per la forte tempra del giovane non ha tolto la vita a Gelfry che però a distanza di 12 mesi è ancora costretto su una sedia a rotelle e che chiede giustizia per quello che è accaduto con un risarcimento che non restituirà l'uso delle gambe al cuoco 23enne di origini dominicane. Un video diventato virale che ha scioccato la città di Pescara e commosso l'Italia intera per come Gelfry ha poi saputo reagire alle difficoltà con una volontà e una determinazione uniche e una riabilitazione per recuperare l'uso delle gambe fatta fino a qualche mese fa nell'ospedale di Summona e ora proseguita a Pescara. Un gesto ancora inspiegabile a distanza di un anno. I due si sono rivisti in tribunale con i periti al lavoro e il prossimo 18 maggio ci sarà un'altra udienza per accertare la capacità di intendere di volere di Pecorale ora in carcere a Viterbo arrestato allora dopo il tentativo di fuga all'estero in taxi poche ore dopo il tentato omicidio all'altezza di Pesaro ma anche la pericolosità sociale dell'uomo.